Ciao ragazzi siamo Giorgio e Matteo e abbiamo preparato una nuova serie di video raggiunti super sonica ragazzi, super sonica e ne siamo contentissimi perché in questa serie di video che abbiamo racchiuso tutte le nostre esperienze e infatti si chiama come abbiamo raggiunto il massimo della forma fisica della salute e dell'energia e di segrete che abbiamo utilizzato le strategie soprattutto in modo semplice e veloce perché questo è quello che ho andato in giro, ci sono magari grandi sistemi di bene essere, percorsi eccetera però sono complicati, non attuati nella vita quotidiana noi abbiamo voluto fare della nostra esperienza praticamente una sorta di programma ecco e abbiamo voluto condividere con te tutte le cose che abbiamo imparato in questi anni sull'alimentazione ma anche su come metterle in pregio a tutti i giorni Sì, infatti dentro questi video ci sono strategie concrete e consigli su che cosa fare, proprio come iniziare, come iniziare dalle colazioni, come cucinare in pochissimo tempo e ad avere sempre a disposizione cibi integrali naturali come ad esempio le mie o le cereali integrali, molte persone ci dicono non ho il tempo, non riesco a organizzarmi, ci sono i consigli pratici di strategie su come fare, su come riuscire ad avere sempre a disposizione anche se in poco tempo, anche se lavori, quindi sono dei consigli super, in più c'è tutta l'organizzazione che puoi utilizzare, vai! Per l'organizzazione io vi dico una cosa fondamentale perché quando decidi di mangiare sano, magari ecco adesso sei abituato a mangiare cose confezionate oppure a mangiare al lavoro, a andare al gestionato e a comprare le cibi in gioco, quando decidi di iniziare un percorso di benessere basato sulle sue cibi che insomma devi prepararti a casa, c'è bisogno di tanta organizzazione, ma non tanta, cioè di un minimo di organizzazione che ti garantisca di tornare a casa la sera e di a buttarti magari sul primo comfort food che trovi, quindi ti abbiamo preparato anche proprio un piano, uno schema, una tabella settimanale con tutti i cibi da mangiare dalla colazione fino alla cena, così non avrai più quel premio. In più ci sono i bonus, come bonus ci sono i PDF di tutti e tre i video, quindi avrai a disposizione pure i PDF per riguardarteli, per seguirti questa impostazione settimanale, quindi assolutamente vai subito, ci mettiamo il link qui, vai subito ad iscriverti alla serie di video, vatti a iscrivervi perché è totalmente gratuita, sono tre video gratuiti, ci abbiamo messo il cuore, pensiamo che veramente possa aiutarti, possa fare la differenza per tante persone, quindi condividi questo video, aiutaci a espanderlo il più possibile, ci abbiamo messo veramente il cuore e vogliamo che tu possa veramente sottolineare, quindi vatti a iscrivere perché poi non sarà più disponibile ovviamente una volta finita la serie, siamo costretti a toglierla di mezzo e quindi ci dispiace veramente se tu non potessi utilizzarla, approfittarla e godere dei benefici di questo video. Quindi niente, noi ci vediamo dall'altra parte e ti diamo un bacio a tutti.